Ecco il video del passaggio di denaro, 15.000 euro, che secondo le indagini della Guardia di Finanza di Pescara e della Procura di L'Aquila servivano a pilotare il contenzioso collerario da 38 milioni di euro di un'azienda pescarese. Per questo, con l'accusa di corruzione, nella mattinata sono finiti agli arresti domiciliari Giovanni Imparato, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, e un commercialista di Formia, consulente tributario della società, oggetto di accertamento. Le indagini, coordinate dal PM della Procura Aquilana, David Mancini, attraverso le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, hanno consentito di ricostruire il giro di mazzette, che Imparato avrebbe gestito direttamente dal suo ufficio, ripreso a sua insaputa dai finanzieri. Gli stessi che lo hanno seguito il 19 aprile scorso a Roma ed hanno immortalato l'incontro tra i due indagati e la consegna della busta contenente 15.000 euro, immediatamente sequestrati. Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, la somma sarebbe stata il prezzo della corruzione del pubblico ufficiale per aggiustare, a favore dell'azienda pescarese, il contenzioso tributario pendente presso la Commissione Tributaria Regionale Abruzzo e remunerare il provvedimento di sospensione amministrativa, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pescara, finalizzato a bloccare l'azione di pignoramento già intrapresa da Equitalia sui beni della società.